Non è stato un evento da campagna elettorale, questo è bene dirlo, è stato un evento istituzionale. Una di quelle conferenze stampa che alla fine il sindaco Garozzo ha fatto sempre, perché che ne dica qualcuno, la città è stata sempre informata, la comunicazione ha funzionato su quelli che sono stati i bilanci semestrali o di un anno. Quindi Garozzo oggi ha fatto una sintesi della sintesi, ma con i dovuti aggiornamenti per cinque anni che si concludono, che finiscono. Abbiamo anche presentato oggi, aggiungo, un opuscolo di cui potranno prendere tutti i siracusani che hanno interesse a documentarsi. Ovviamente chi non ha interesse a documentarsi non c'è opuscolo che tiene. Sarà pubblicato sul sito del Comune di Siracusa, sarà pubblicato online e poi sarà anche reperibile su cartaceo per chi ne volesse copia. Questo serve a dare una corretta informazione al cittadino rispetto alle cose che sono state fatte in questi cinque anni. Era giusto tirare una linea alla fine dei cinque anni per capire dove si era arrivati, perché spesso anche molte cose sfuggono all'opinione pubblica perché sono cose magari di sostanza, ma che non vengono percepite. Ok, fa parte del gioco della politica. Però certo è che materiale ce n'è tanto su cui riflettere rispetto alle politiche fatte da questa amministrazione. Lavori pubblici, ambiente, asilinido, servizi più ambienti sportivi. Il bilancio anche che viene restituito in maniera a posto. Una situazione per cui abbiamo dovuto fronteggiare i debiti fuori bilancio che riditevamo di volta in volta, ma anche tutti i mutui accessi alle precedenti amministrazioni. Quindi abbiamo dovuto far fronte a queste spese che erano spese che stavano lì e si dovevano onorare evidentemente. Ma quello su cui siamo stati particolarmente bravi e ben predisposti noi è stato quello di attingere a fondi europei, anche grazie all'Ufficio Europa che abbiamo costituito noi. I ragazzi, definisco ragazzi perché sono neolaureati dello Smart Lab che ci hanno dato una mano in questa programmazione e hanno fatto un lavoro molto interessante. E poi le start-up, per parlare anche di lotta alla disoccupazione, quindi con gli stimoli per i giovani per nuove imprese. Però Garozzo viene ricordato, se mai dovesse continuare, continuerà ad agire così per il sistema Siracusa. Ecco, con coraggio, un sindaco che si è messo all'altra parte. Ma vede, quando si è eletti alla carica così importante che è quella di primo cittadino, le cose che puoi fare sono due, quando ti trovi di fronte a determinati avvenimenti. O li affronti senza timore, senza paura alcuna, con una buona dose di incoscienza, visto che era un servizio rodato sul territorio provinciale da vent'anni e aveva già fatto vittime illustre come Massimo Carruba da Augusta. oppure ti accordi con loro. Non so se rendo l'idea di quello che dico. E allora, il mio temperamento e la mia voglia di giustizia sociale e il mio aver ricoperto il ruolo di sindaco con senso dell'onore davvero, la prima, la seconda possibilità che ho illustrato me l'ha fatta escludere praticamente immediatamente. E con una buona poi dose di incoscienza, perché molti me l'hanno detto che ho avuto anche una buona dose di incoscienza giocato alla sua parte, abbiamo affrontato a vista aperto questa situazione. Questa situazione che ho visto poi, come dire, passare il comune di Siracusa da essere il più inquisito di Italia ad essere il più per bene d'Italia. E queste cose sono cose che comunque poi ti vengono riconosciute, soprattutto dalle persone a cui sta in stretto contatto, i dirigenti, i funzionari, gli stessi alcuni assessori hanno sofferto molto per le continue pressioni giudiziarie che avevano addosso. Spesso non si viene conto che dietro il ruolo di assessore, di sindaco, di dirigente ci siano delle persone con delle famiglie. Il trambusto è tanto, però quando poi viene alla luce tutto quel sistema marcio che c'era, allora dici abbiamo fatto bene, abbiamo fatto bene il nostro dovere, l'abbiamo fatto nell'interesse della comunità, ne siamo molto orgogliosi e fieri. C'è stato anche un attentato incendiario, una macchina che è bruciata, una sera che il sindaco era a Roma per affari istituzionali, coraggio, incoscienza. Come si fa ad andare avanti nonostante tutto? Ma io come sono andato avanti? Non ho avuto mai la sensazione di dover mollare, ma non perché sono attaccato alla voltrona, tutto il contrario. Io a metà settembre potevo andare via e oggi sarei parlamentare nazionale. Non mi interessava questo, mi interessava una seta, una voglia di giustizia che aveva preso assolutamente il sopravvento su di me. E legato alla mia piccola bambina che oggi ha due anni, che mi ha dato una forza, perché mi sono guardato allo specchio e ho detto ma se io lascio mollo domani mia figlia, cosa può pensare dire che sono uno che molla? Mi ha dato una forza, quello non indifferente, devo dire. Garozzo, quindi candidato sindaco un'altra volta, con quale supporto elettorale? Il supporto in questa fase sono le mie liste civiche, evidentemente. Noi speriamo di... Sono tre. Sono tre. Noi speriamo di poter ampliare il più possibile la coalizione perché siamo convinti che il nemico da battere è quello che ha governato per troppi anni questa città e vedo un fenomeno riproporsi abbastanza inquietante. Quindi il suo avversario rimane il centrodestra? Il suo avversario è assolutamente il centrodestra. Definirei magari il Movimento 5 Stelle, lo definirei inconsistente da un punto di vista della preparazione, delle capacità, ma inquietante no il Movimento 5 Stelle. Dobbiamo essere oggettivi. Quello che invece vedo dall'altra parte è troppo inquietante per i miei gusti. Ho fatto dieci anni il Consigliere Comunale dell'Opposizione. Sono stato all'opposizione di questi gruppi che gestivano la città. Non è quello assolutamente che serve la città e va fatto uno sforzo comune da parte di tutte quelle forze, di tutti quei sindaci che stanno tendendo la corsa a tanto di rispetto. Ma bisogna guardare all'interesse generale e non guardare alle posizioni personali o alle rendite di posizione o, peggio ancora, essere consigliati male e quindi non fare le scelte giuste. Campagna elettorale ancora lunga. Un passo indietro o di lato? Ma guardi, non è mai esclusa. Mi interessa, come ho detto in più occasioni, mi interessa sempre il progetto politico, che sia un progetto politico sano e nell'interesse dei siracusani. Quindi è disponibile, nonostante che sono lucente, a fare qualsiasi tipo di ragionamento. Ma dobbiamo farlo tutti insieme e devono essere tutti consci del fatto che da soli non si vada a nessuna parte. Grazie a tutti.